ciao a tutti oggi prepareremo il latte d'avena il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più 12 ore di riposo gli ingredienti sono acqua e fiocchi d'avena diamo il via alla ricetta abbiamo sciacquato sotto l'acqua corrente i fiocchi d'avena fino a quando l'acqua non è risultata limpida mettere in una brocca i fiocchi d'avena aggiungere l'acqua mescolare coprire con pellicola trasparente e lasciare riposare per 12 ore trascorso il tempo versare il composto nel boccale ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola ed azionare nuovamente il bimbi per un minuto a velocità 10 filtrare il composto latte d'avena si conserva in frigo per due giorni grazie e alla prossima ricetta ciao